Bella ragazzi, finalmente dopo 6 giorni, oddio mio ragazzi, è passato veramente tanto tempo Da 14 febbraio al 20 Cioè, 6 giorni ragazzi, circa 6 giorni Esatti, sì 6 giorni Di completa inattività sul canale Eeeh, su Su Xbox ovviamente Non ho potuto giocare, non ho potuto livellare Infatti, sono ancora fermo a livello più o meno 30 dell'ottavo prestigio Ma non è questa la tematica di cui affronteremo in questo video Che sarà caricato ovviamente in ritardo per ragioni di tempo Perché oggi, 20 febbraio 2013 Alle ore, dovranno arrivare alle 3 e mezza E sono arrivati invece alle 2 e qualcosa Il tempo che sono andati, se ne è andato uno era E si sono fatti le 3 Eeeh, l'argomento di cui voglio parlare Eeeh, la mia nuova connessione Fastweb 20 Mega Intanto vi introduco la partita E' un TCT su Carrier Eeeh, conclusosi con la mia vittoria Vediamo se riesco a non imparpirarmi Eeeh, purtroppo sì, ho fatto 24 morti Eeeh, però ho vinto Eeeh, nonostante in squad Cioè, insomma, nella lobby ci siano Stati, ecco Due dei miei amici che io saluto Killer Game e Xydra Real Eeeh, non sono stato favore... Diciamo, non ci sono stati favoreggiamenti Insomma, mmmm Anzi, è stato un pochino Impegnativo Impegnativa la partita, insomma Una dei pochi sniping che ho fatto Che faccio Eeeh, totalmente col cecchino Con un buon risultato, tra l'altro Eeeh, io inizierei Da subito con spezzettare questo video Eeeh, mostrarvi Router vecchio, router nuovo Eeeh, fare una specie di After unboxing Eeeh, poi vedremo Le mie riflessioni Eeeh, speed test in live Farò vedere i vecchi risultati I nuovi risultati Premetto che la connessione si deve già Si deve stabilizzare Eeeh, la sto provando E la proverò nei giorni a seguire Quindi, ci vediamo subito con l'unboxing Eccoci qua Mi scuso per la postazione Ma ancora non ho Tra virgolette Cambiato Eeeh, postazione Insomma, vedrò Eeeh, fine mese Di sistemarmi un poco Perché Poi tra due mesi dovrò cambiare pure casa Come vedete Questa è la scatola del Eeeh, nuovo modem Eeeh, un modem Disegnato Disegnato per fast web Già configurato E' portatomi dal tecnico telecom Oggi Eeeh, wifi Ovviamente E' un router molto particolare E' della TecniColor TecniColor Non voglio sbagliare Pronuncia Vedete la scritta Beh, immagina QOI Però, beh, proprio allucinanti Vabbè Eeeh, presenta due porte USB Al lato sinistro Eeeh, su Adesso, ecco Si possono collegare Infiniti dispositivi Quattro tramite Ethernet Eeeh, qua vedete La scatola La cosa particolare Molto particolare E' che Eeeh, non è la connessione Ecco, la linea del telefono Viene data dal telefono stesso No, ma la linea del telefonica Eeeh, è l'assente Ed è l'assente Perché Eeeh, è proprio il router Proprio questo modem Che dà la linea telefonica Eeeh, alzate Ecco la busta L'involucro Noterete Poi, vabbè I vari manuali di istruzione Eeeh, lo scatolo bianco E quello Dove era contenuto L'alimentatore Questi sono due cavi Ethernet Eeeh, riposti sotto la scatola Che userò Più avanti Ecco, avendo Quando avrò tutta la postazione Per collegare Eeeh, PS3 E Xbox 360 Soprattutto Xbox 360 Tramite Ethernet Perché attualmente sono Tramite Wi-Fi Come ero prima Eeeh, vedete Ecco lo scatolo Questo, il manualetto Che, insomma Va letto Ma il più importante E' questo Perché vi spiega I pulsanti L'accensione Vi spiega Appunto la posizione Delle 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 porte Ethernet Eeeh, un po' il contenuto Di tutta la scatola Ovviamente All'inizio Eeeh, vi spiega I vari stati Eeeh, del Del router Cioè le luci Verde Eeeh, verde Verde fisso Eeeh, blu Eeeh, blu Che appunto Quando è Eeeh, disabilitato Eeeh, rosso Lampeggiante Ecco, o rosso Fisso Quando è spento Rosso lampeggiante Quando si sta per Connettere Alla fine Se non sbaglio Comunque Eeeh, nel manuale C'è scritto tutto E sono informazioni Frivole Che io gli do La cosa importante E che qua c'è il codice L'HTP Che va inserito Nel browser Che io Ora vi farò vedere Dopo Vi vi farò vedere Il vecchio router E quello nuovo Ovviamente Perché non l'avete visto Ora Ora lo vedrete Eeeh, lì Praticamente Si andranno a settare Tutte le impostazioni Eeeh, inerenti al router Eeeh, per quanto riguarda Eeeh, parte Delle impostazioni Perché il resto Dovremmo settare Sull'apposita pagina Di fastweb.it Ovvero MyFastPage Eeeh, che di solito Richiede Un giorno Per la Per ecco Per il completo accesso Infatti io Non ce l'ho tuttora Eeeh, nonostante Ecco La Il contratto Si ha convalidato La L'accesso Insomma Tutta l'autentificazione E' ok Ma Serve Ecco Mi chiede un aggiornamento Quindi è solo questione di tempo Come alla fine La connessione Che Sbalza un poco E ha bisogno Di stabilizzarsi Quindi Entro Fine settimana Entro una settimana Speriamo che si stabilissi Comunque i risultati Sono Sicuramente Positivi Nettamente Ecco Al cento Quasi Per cento Ecco Passiamo subito Con Analizzare Ecco Questo Router Che è quello vecchio E' un Netgear Un buon modello Wireless Quattro Quattro Ecco ingressi Wifi Quattro Ethernet Dietri Questo è l'alimentatore Che ho sistemato E' una DSL 2.0 Se non sbaglio E ha svolto Il suo Il suo lavoro Egregiamente Ecco Non mi Non mi posso Lamentare Non mi posso E non mi devo Per niente Lamentare Ecco Vi faccio Presente Appunto Sistemerò La postazione Nel senso Che Ho fatto Fare un mobile Vabbè Per Circa Natale Qua intanto Che si è sganciato Non Il cavolo Dell'antennina Ma si è sganciato Insomma L'antenna L'involucro E questo che vedete E' il nuovo router Quindi Finendo Ecco il discorso Io Penso che Per la fine del mese Riuscirò A sistemarmi Tutta la postazione E quindi Collegarmi Tramite Ethernet Questo che vedete Sulla parte sinistra Del monitor Del monitor Scusate Del router Ci sono due porte USB Non so Di preciso A cosa servino Qua vedete I pulsanti Che I cavi La mutazione Tutto un broglio Di file Di fili particolari Che Una è quella La presa del telefono L'altro Il filtro E quello bianco E un inghippo Diciamo Fatto perché Il telefono E' distante Da router Per cui Serve per Come dire Avere la linea Del telefono Accesa Senza averlo Ecco Nella vicinanza Non vi so spiegare Insomma E' un trucchettino Che ha fatto il tecnico Avete visto Insomma Il led Sul pulsante D'accensione Che era blu Perché Era tutto disabilitato Ovviamente Spento Devo trovare Il cavo D'alimentazione Ora è tutto acceso Vedete Io meticolosamente Sistemo sempre I cavi I cavi Ethernet Ecco Quello Della linea E quello Poi Quello del trucchetto Là Per avere il telefono La linea del telefono Attaccata Perché Sennò sarebbe staccato Non si potrebbe usare Il telefono Vedete qua Premendo su info Su i Ci esce Insomma Tutto quello Che Tutte le informazioni WPS Ethernet Voice 1 Voice 2 Si è attivata Voice 1 Voice 2 È attivata la Voice 1 Per ora Ovviamente C'è la protezione E vabbè Andiamo però A vedere Speedtest E andiamo a vedere Un pochino Le impostazioni Del router Penso che Per ultimo Sia ecco Doveroso Lasciarlo Speedtest E andiamo quindi Direttamente Con le impostazioni Di questo modem Technicolor Tecnicolor Scusatemi Mi impappino Poi andremo a vedere Insomma L'interfaccia Della pagina Fastware Su Fastware Però Che attualmente Non posso Gestire completamente Ecco ragazzi Andiamo subito A vedere Su Google Google Chrome Insomma Sul browser Su internet Le impostazioni Del router Questo Vabbè Il mio indirizzo È 192 168 1 Punto 1 E poi Punto Il numero Cambia Secondo Ovviamente Del modem Che è Preconfigurato Ecco Dalla Dalla Telecom Ci tengo a dire Che I risultati Sono andati Bene La proverò Ecco Come già Ripetuto Ecco Nelle settimane In questa settimana Soprattutto E farò ogni giorno Lo speed test Ma La cosa Fondamentale Che Devo dirvi È Che Ho scoperto A malincuore Che La centralina Che Mi serve A me Nella mia zona Che poi sono tre Nella mia zona Tramite Tramite L'orribile Ecco Attesa Di fastweb Sul Sul call center Ecco Mi sono Mi hanno saputo Ecco Solo dire Che A me Mi serve La centralina A Quella Che ne so E Il tipo Di centralina Come Ha detto Il Il Tecnico Che è venuto A portarmi il modem A Confiare A Ecco A Sistemare Tutto E E Praticamente Non ULL Ma VHS Vi spiego Cosa vuol dire VHS È una centralina Telecom Che È stata Data In Gestione Cioè È della Telecom Però È condivisa Ecco Con le altre Reti Quindi Infostrada Quindi Che ne so Discali Che ne so Alice E anche Fastweb Ma è Competenza Della Telecom I cavi Sono tutti Telecom ULL Invece Di competenza Solo Della Fastweb Ci sono Queste Centraline Purtroppo Nella mia zona No Fossi stato A Roma Oltre Aver Avuto Probabilmente L'opportunità Di Soffrire Della 100 Mega Fibra Ottica Qualora Stessi Ecco Al centro Avrei Sicuramente Anche Fuori Da zona Di Roma Fuori dal centro Avrei avuto Una 20 Mega Con Meglio Verla ULL Perché Tutte Le Manutenzioni Vengono Fatte Da Fastweb Con la VHS Da Telecom Per cui E' più Difficile Richiedere A Telecom Ecco Di Farmi Mettere La Connessione In Fast Cosa Vuol dire In Fast Vuol dire Che Vengono Modificati Data Centrale Che Appunto Di competenza Telecom Non Fastweb Perché Non Centralina ULL Che Mi Serve Mi Cambiano Degli Algoritmi E Mi Abbassano Quindi Numericamente Ecco Il Ping Cioè Tipo Da 50 A 40 Da 40 A 30 O Poco Di 4 Di 8 10 Non So Quanto Scali Ecco Di Che Che Versione Del Modem Siamo Sulla Parte Principale Qua Ci sono Tutte Le Informazioni Configurazione Registro Evento Quello Che Magari Ci Potrebbe Interessare Per Aprire Le Porte Che Principalmente Ecco Il Però Nel Caso Do Essere Chiuso Do Essere Chiuso Vi Spiego Come Aprire Semplicemente Anche Con Interface Con Un Piccolo Video Fatto Xbox Come Vedete Casale Degli Strumenti Il Disposito Tecnico Getaway Offre Molti Servizi Questi Servizi Consentano Di Proteggere La Rete Di Facilitare La Condivisione Di Giochi E Applicazioni Con Altre Persone In Internet O Di Gestire Come Vedete Possiamo Assegnare Un Gioco Un Applicazione Un Dispositivo Di Rete Locale E Quindi Aggiungere O Settare Le Già Già Giunto Xbox Live Bit Torrent Xbox Live Se noi Andiamo A Vedere Su Modifica Ma aspettate Su Ecco Sull'impostazione Un lock Xbox Live Ecco Cioè Praticamente Qua Mi sono Riportate Le Impostazioni Delle Porte Che Sono State Aperte Selezionando I servizi Che Noi Andremo A Aggiungere manualmente Come Vedete Le porte Sono Già Impostate 88 Intervallo Di Porta 3074 2074 Il TCP Porta TCP Porta UDP 3074 2074 UDP 88 88 E Queste Sono Le Impostazioni Base Per Aprire Le Porte Su Xbox Live Detto Questo Parametri Control Tutte Queste Cos Sono Cose Secondari Non Servono Per Ora Passando Ad Altro Vi Faccio Vedere Velocemente Così Andiamo A Vedere Le porte E Poi Lo speed Desta E Finiamo Fastweb.it Pagina Homepage Area clienti Di Fastweb Qui Vi Vi Verrà Dato Per L'impostazione Del router Technicolor C'è Ovviamente Admini Una password Pre Stabile Default Quella Ovviamente La password L'ho cambiata L'admini E ancora Quello Fastweb E Praticamente Lo Potete impostare Direttamente Dalle impostazioni Viste prima Ecco Qua ovviamente Ci sarà Una Ci sono Degli accessi Un username Una password Che vi verranno dati Dal call center Quindi se chiamate Oppure Potete rimpostare Inserendo Inserendo Praticamente Il vostro Codice fiscale Di chi Praticamente Ha E Il proprietario Della rete Ecco Intestatario Io E per esempio O il numero Di ricapito Che poi Sul cellulare Vi verrà Ricapitato Appunto Username Mi posso Dover accedere In questa area Clienti Fastweb Che è Molto Importante Perché Dopo Un giorno Si può Praticamente Ecco Ve la vedete Settare un po' Le impostazioni Tenere sotto controllo La sicurezza Conto Fastweb Il tipo Di abbonamento Che a voi Avete Abbonato Potete Cioè Attivato Potete Non so Cambiare Il tipo Di abbonamento Cambiare Le impostazioni Di ricapito Aggiornare Insomma Tantissime cose Ecco Clienti Qua Dovevamo andare Su Configura Servizi E Qua È Possibile Praticamente Impostare Configurazione Wifi Cioè Password Entrata Il nome Il nome Della 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 Rete Che Per ore È ancora Quella Normale TNCAP6 Lasciamo stare L'IP pubblico Configurazione Sim Fastweb Perché Insieme Nel pacchetto Surf Ecco Nell'offerta 20Mb Fastweb Oltre al modem Mi viene dato Una Microsim Che si può Inserire O sullo Smartphone O sul cellulare Oppure Sulla Chiavetta Mobile Per navigare Quando siamo Fuori Di circa Ecco Che ci offre Più o meno Un mega Un giga Scusatemi Non so se a mese O a giorno Che vi verrà Consegnata Tramite Corriere O posta Io ancora Devo aspettare Devo chiamare il corriere E sapere quando Mi viene portata Ecco Velocissimamente Per chi non avesse Aver Aperto il NAT Ecco Andiamo a vedere E controllare Che appunto Il NAT Si è aperto E andiamo a controllare Qualche impostazione Di rete Prima Cosa Andiamo su impostazioni Di rete Andiamo a cercare La nostra connessione Dopo averla trovata Dobbiamo Connetterci Inserendo la password Ovviamente Se la connessione E' protetta Se la rete E' protetta Dopo aver Aspettato Ecco Tutto il test Di connessione Dobbiamo andare A verificare Le impostazioni Generali Della nostra rete Bene Successivamente Quello che dobbiamo fare E' semplice Andiamo sulla nostra Rete Su configura rete E ci dobbiamo Ecco Accertare Che tutto sia Impostato Su Automatico Nel caso In cui non fosse così Dobbiamo andare Su altre impostazioni E Reimpostare Le impostazioni Di fabbrica Dopodichè Connettiamoci Con il nostro profilo E andiamo a vedere Sulla schermata Di Call of Duty Di un qualsiasi gioco Se il nato è aperto Come avete appena visto Ci basta andare Su opzioni E andare Premendo La freccetta Il controller Back Andare su informazioni Di sistema Dove noi possiamo Visualizzare Il tipo Di nato aperto E tutte le impostazioni Per qualsiasi dubbio In descrizione Ecco Ci sono Delle piccole Indicazioni Su quello che ho fatto Sul sito Ecco Di Fastweb Su Le informazioni Ecco Sul router E I miei pareri Ecco Quindi Le domande Ecco Le potete fare Nei commenti Salterò Un po' Di parti Di questa partita Per Non allungare Troppo Il video Che è stato Corposo Con tutte le guide E andare Diciamo Direttamente Allo speed test Che ripeto Un gran passo Avanti Ecco Fatto Da Infostrada 7 MB Fastweb 20 MB Ovviamente Si deve Ancora Stabilizzare La connessione Download Ho Circa 10 Che va Al 12 Di ping 0 Cioè Di ping 42 Prima era 50 55 E ora Anche Di Di upload Ho un upload Nettamente superiore All'infostrada Mentre prima Avevo 060 Cioè Scusate 40 Ora Ho Un ping Che inizialmente Nelle prime ore Oscillava da 060 Ma ora si è stabilizzato Verso 80 Quindi 0800 0600 E un buon Un buon upload Un buon ping Speriamo che migliori Andiamo direttamente Allo speed test Ma prima vi faccio vedere I risultati Della vecchia connessione Di uno speed test Più o meno recente E vi faccio vedere Lo speed test Eseguito Insomma Nelle prime ore Dopo aver messo Il router Che è un risultato Un po' Eccessivo Infatti Tendeva Ad alzare A diminuire Cioè Sballa un pochino Il Lo speed test Perché appunto Si deve stabilizzare Quindi Ci possono essere Dei picchi Ecco Appunto Proprio come detto 679 Di download 043 Di upload E 46 Di ping Come vedete I valori Non sono Quelli veritieri Perché avevo Un ping Troppo alto E 15 Di download Con questo Spero di non avervi Ammorbato troppo Spero di esservi Stato utile Vi avvi dato Qualche dritta E le mie impressioni Comunque Si evolveranno Nel senso che Un passo avanti E La connessione Per ora Va molto bene E migliorerà Vi lascio quindi Con uno speed test In live E con Gli ultimi Due tre minuti Dei questa partita Andiamo subito A vedere Vi fare uno speed test In live Ricordo che I server Che si selezionano Ecco Normalmente Per fare i test Su speed test Ma per calcolare Dovunque Ecco La propria connessione Non sono mai veri Ieri Perché si potrebbe Anche avere Un Un Il server Che ci serve La connessione Potrebbe anche Non essere Nella stessa regione Quindi potrebbe essere Per esempio Noi siamo Nel Lazio Potrebbe anche essere Tipo in Lombardia O in Puglia Per esempio Server Comunque Farò il test Da Direttamente Da Roma Da Unidata E non da Latina Come facevo solitamente Perché mi è stato consigliato così Ed è uno dei migliori Server Più attendibili Premetto che Potrebbero esserci Degli sbalzi Oppure Il download Potrebbe apparire Troppo basso Perché appunto Si deve stabilizzare Quindi non potrebbe Potrebbe anche Non essere Quello Veritiero Che solitamente 20 volte Su 20 Mi è Appunto Apparso Facendo Ripetuti Test Vediamo subito Il ping 41 40 Perché si Oscilla Sempre dal 50 55 Mentre si è Stabilizzato Il ping A 40 41 43 Il download Rispetto a prima È Ritornato normale Perché prima Era sceso A 6 E qualcosa O a 7 Addirittura A 8 Cioè Mentre prima All'inizio Ho inserito il router Andava Un po' male Poi È sballato I risultati Sono un po' sballati È arrivato pure a 15 Come avete visto Di download L'upload Si è stabilizzato Da 0.60 Nelle prime ore Quindi Nel 4 5 Del pomeriggio Circa Si è stabilizzato A 0.800 0.80 Che Ultimamente È salito A 0.85 Che 85 Che è quello Reale Quindi 0.85 Di upload 12 E 25 Di download Una buona connessione Davvero 41 Di ping E si deve stabilizzare Perché per ora Online Ho solo avuto 3 tacche fisse Ma perché poi Lost Della partita Lost del gruppo Non ero io Lost della partita Poi Sapete come va Difficilmente Puoi essere tu Però in teoria Dovrei Potrei capitare Su circa 20 volte Potrebbe capitare Che una decina Magari Di volte Sono host Io Perché di solito Succedeva così Con infostrada Non così tante volte Ma Speriamo Che vada bene Non so Lo vogliamo Rifare Io comunque Sono soddisfatto Da questo test Lo rieseguirò Ogni giorno Vedete ora Si è sballato 042 Si è alzato 13 Addirittura 13 Di download Ragazzi Questo è diciamo La controprova Perché poi Da latina Non è tanto Veritiero Oppure Altre zone Altri server Tipo Sempre da Roma Tramite Telecom S.p.a Quello è il server E vedete Scende 080 Tocca al massimo 084 Penso ora 083 Ecco E così Questa mezz'ora È passata E se vi è piaciuto Il video Vi ricordo sempre Di lasciare un bel mi piace Di seguirci Sulla nostra pagina Facebook Che trovate in descrizione Oltre La pagina Facebook Mi raccomando Se potete Seguiteci anche Su Twitter Ricordo inoltre Di inviarci Le vostre clip I vostri gameplay Per Appunto Se volete Noi commentiamo Le vostre belle partite O Per la top 5 Le top 10 Ecco Magari Inviateci le clip Il link è in descrizione E Da Gildone è tutto Vi terrò aggiornati Sullo stato Dell'upload Del download Del ping Insomma Della mia connessione E speriamo solo Che questo video Si carichi In meno di 8 ore Perché Con 043 Con infrastrada Di upload Ci mettevo 7-8 ore Per caricare un video Speriamo quindi Di metterci La metà del tempo Almeno 3-4-5 ore Ciao E alla prossima Ciao 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 Ciao